Benvenuti in Chase Durer. Chase Durer è un marchio di orologi di lusso che vanta una storia di successi e di passione per la precisione e la qualità dei suoi prodotti. Fondato negli anni 90 da un pilota di aerei acrobatici, il marchio Chase Durer si è fatto conoscere in tutto il mondo per la sua capacità di creare orologi unici, eleganti e di alta qualità. La gamma di orologi Chase Durer è vasta e diversificata, ma tutte le creazioni si distinguono per la cura del dettaglio e la scelta di materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, titanio, oro e diamanti. I movimenti al quarzo o automatici di alta gamma garantiscono una precisione estrema e una lunga durata nel tempo. Ma non è solo la qualità dei materiali e dei movimenti a rendere gli orologi Chase Durer unici. Infatti, molti degli orologi sono dotati di funzionalità avanzate come cronografi, indicatori di data e fasi lunari, che li rendono ancora più preziosi e funzionali. La scelta di Chase Durer da parte di numerosi piloti militari e civili, astronauti e membri delle forze dell'ordine non è casuale. Infatti, la robustezza e l'affidabilità degli orologi Chase Durer li rendono perfetti per chi svolge attività che richiedono la massima precisione e resistenza. Ma gli orologi Chase Durer non sono solo un prodotto funzionale e affidabile, sono anche un simbolo di stile e raffinatezza. Infatti, molti collezionisti e appassionati di orologi di lusso apprezzano la bellezza esclusiva dei design Chase Durer e la loro eleganza raffinata. In conclusione, se stai cercando un orologio di lusso che sia sinonimo di affidabilità, precisione e raffinatezza, il marchio Chase Durer è la scelta giusta per te. I suoi orologi unici, eleganti e di alta qualità sono ideali per chi cerca un prodotto funzionale e prestigioso, in grado di soddisfare le esigenze più elevate. Scegliere un orologio Chase Durer significa entrare a far parte di un mondo di stile e raffinatezza senza tempo, dove la precisione e la qualità sono il filo conduttore di ogni creazione.